Buon giovedì a tutti, ci mettiamo in ascolto del Vangelo che la liturgia ci regala. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, ancora, il regno dei cedi è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Quindi, così sarà la fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro, per questo ogni scriva divenuto discepolo del regno dei cedi è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Quindi, terminate queste parabole, Gesù partì di là. Siamo alla fine del discorso in parabole di Gesù, questo capitolo 13 del Vangelo di Matteo e leggiamo queste ancora due piccole parabole, se vogliamo una parabola e poi un'immagine simbolica per descrivere lo scriva divenuto discepolo del regno dei cedi. Vediamo la prima immagine. Si dice che il regno dei cedi è simile a una rete gettata in male, che raccoglie ogni genere di pesci. È molto interessante questa espressione, perché questo seme che è il regno dei cedi, questo anticipo di ciò che sarà il mondo che è il regno dei cedi, questi pezzi di terra in cui Dio può regnare, in cui noi riconosciamo la signoria del Signore, in realtà sono proprio dentro questa terra, sono proprio incarnati in questa terra. E dunque, e dunque questa rete che è il regno dei cedi, cioè questa primizia dell'umanità completamente rivolta a Dio, è una rete che su questa terra deve fare i conti con la complessità di abitare questa terra. Non è il regno dei cedi un luogo così nettamente distinguibile. In questa rete del regno dei cedi le sfumature sono molto sottili, perché c'è qualcuno che entra per opportunismo, c'è qualcuno che sembra appartenere alla dinamica del regno, ma in realtà il suo cuore è perverso, si parla proprio dei pliempi, dei pesci cattivi. C'è qualcuno che è proprio cattivo e che fa del male a questo regno. Insomma, finché il regno di Dio si sta realizzando nella storia, i suoi confini sono molto molto sfumati. Verrà il tempo in cui il Signore farà distinzione, verrà il tempo del giudizio, verrà il tempo in cui questo mistero del regno sarà completamente dispiegato nella storia. Ma per ora il regno dei cieli è simile a una rete gettata in mare che raccoglie ogni genere di pesce. Uno potrebbe dire, Madomano, ma com'è complicata sta roba oggi? E a noi che cosa ne viene? E ne viene una cosa molto molto preziosa, perché ogni tanto ti può venire la tentazione per dire basta, solo chi ci sta nelle nostre iniziative, nelle nostre preoccupazioni, nella nostra mente, c'è spazio per chi ci sta, fuori tutti gli altri, via chi non è interessato, cacciamo via gli altri, rigidità. Ci verrebbe in mente questa cosa qua, no? E' come se noi voressimo anticipare il giudizio, come se noi fossimo Dio che deve anticipare il giudizio tra il pesce buono e il pesce cattivo. E invece sembra che il Signore, con questa parabola, ci invita ad abitare la complessità della storia. Noi stiamo vivendo un tempo, che è il tempo della pesca, non è ancora il tempo della distinzione dei pesci. Calma tu a giudicare chi è il pesce cattivo dal pesce buono. Questa cosa la deve fare solo Dio. Per ora, per noi è tempo di pescare, è tempo di raccogliere, è tempo di riempire questa rete, accettando di vivere in una storia dove le barriere non sono così nettamente distinguibili. Quanto male, no? Possiamo fare quando noi diventiamo più spietati di Dio nei nostri giudizi. Quanto male facciamo mettendo una barriera a chi invece, magari secondo il Signore, appartiene e come alla dinamica del regno. Calma allora tutte le volte che ci viene da anticipare il giudizio. Su questa terra il regno dei Cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesce. Quando è piena i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono il pesce buono nei canestri e buttano via i cattivi. Quando è piena, nel nostro non è ancora il tempo delle distinzioni, non è ancora il tempo dei giudizi netti. Non puoi, mentre peschi, metterti subito a cacciare via il pesce. Adesso devi tirarlo su il pesce, accettando di abitare le sfumature della storia. Lasciatemi aggiungere anche una cosa che è una mia convinzione personale, non si dice in questo testo. Secondo me rimarremo stupitissimi il giorno del regno, in cui ci accorgeremo che tante persone che noi avremmo buttate fuori, invece il Signore, nella sua infinita misericordia, è riuscito a renderle discepoli. Noi non la possiamo fare questa cosa, ma Dio sì. E allora piano a buttare fuori, a escludere, a anticipare il giudizio. Viviamo in un tempo che è il tempo della pesca, il tempo in cui provare a fare arrivare a tutti questo messaggio del regno, accettando di abitare le sfumature della storia. Sarà il Signore che poi porterà a pienezza questo regno con il suo giudizio, con il suo giudizio di misericordia, ma anche con il suo giudizio di verità. Questa cosa non è una responsabilità che abbiamo noi. Forse ci alleggerisce anche un po'. Da una parte ti preoccupa un po', non abbiamo la Chiesa dei Perfetti. Ho scritto un articolo una volta per una rivista, la logica impura delle parrocchie. Le nostre parrocchie sono sempre un po' sporche, ma la nostra pastorale deve essere sempre un po' sporca. Non possiamo fare la pastorale per i perfetti, educare chi non ha bisogno di educare. Noi accogliamo, ma sono i santi, quelli che hanno già raggiunto la perfezione morale. No, noi cerchiamo davvero una pastorale impura, ma capitemi, per impuro intendo che non chiediamo il pedigree di santità per venire da noi. Questo è il tempo della Chiesa. Siamo alleggeriti dall'obbligo di essere i giudici finali. Certo, ci è chiesto di abitare nella complessità, che non è sempre facile, mi rendo conto, non è sempre così immediato non stare dentro nelle sfumature della nostra storia e del nostro tempo. Però ecco, ci è lasciata questa missione impegnativa di lanciare questa rete affidando a Dio il suo destino e il suo futuro. E poi che bella non la conclusione di questo testo. Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Il Signore non butta via nulla di ciò che Dio ha manifestato lungo la storia, ma permette di incrementare il tesoro. Gesù vede la rivelazione di Dio, anche dell'Antico Testamento, come un enorme tesoro, di cui adesso lui aggiunge cose nuove, aggiunge tesori nuove, aggiunge cose preziose nuove. Per questo chi scriba aderisce alla logica del regno ha un grande tesoro, no? E lui il tesoro delle cose antiche, delle cose nuove che il Signore manifesta. Dio non ha mai smesso di regalare nella storia e adesso sta facendo dei doni nuovi e uno scriba che si converte alle antichità del Signore, ma ha anche deciso di aprire il suo sguardo ai doni nuovi che il Signore sta facendo. Che bello se si può dire anche di noi, no? Ogni tanto nella Chiesa siamo attraversati da questa idea che antico è bello. Una cosa, perché antica di sicuro andava meglio. Non è mica tanto vero. Guardate che se andiamo a scogliare le pagine della storia della Bibbia, della storia della Chiesa, insomma, non è sempre andata benissimo, abbiamo sempre avuto tanti ostacoli da superare. Ecco, uno che è sapiente e che sa vedere la storia ma sa anche riconoscere la novità a un tesoro fatto da cose antiche e cose nuove. Non è per partito preso il nuovo e bello, non è per partito preso l'antico e bello. Il Signore non ha mai smesso di dare i suoi doni in passato come oggi. Forse dobbiamo entrare nella logica della rete gettata nella storia. Non è che, evitando passati gloriosi, futuri improponibili, oggi il Signore regala i suoi tesori alla storia e che bellano se siamo capaci di riconoscerli. Grazie per aver seguito questo momento di ascolto del Vangelo e auguro a tutti di cuore una buona giornata.